Buonasera a tutti. Io anzitutto vorrei davvero esprimere il più sentito ringraziamento per avermi invitato a prendere parte a questo appuntamento che ho organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia ed è dedicato ad una approfondita riflessione su una metodologia per una rilevanza strategica del turismo. Perché? Perché mi avvicino al turismo con la stessa curiosità e attenzione con cui questi primi mesi mi sono dedicato ai molti temi della cultura e perché sono convinto che proprio dal turismo ci verrà quella che è una delle leve principali per la crescita del nostro paese. Però partiamo un attimo da considerare dove stiamo. Il 2012 è stato un anno di record per il turismo internazionale. Credo che per la prima volta nella storia gli arrivi internazionali nel mondo hanno superato la quota di un miliardo di persone. La crescita è stata del 4%. I dati italiani come sapete sino a giugno di quest'anno non erano particolarmente positivi. Le presenze internazionali sono state abbastanza costanti. Forse sino a giugno se è stato i dati istaci dicono una lievissima diminuzione dello 0,4%. Abbiamo avuto invece un aumento della spesa dei turisti stranieri. Sempre Banca d'Italia nei dati presentati il 9 settembre, sul primo semestre, ci dice che i viaggiatori stranieri hanno incrementato dell'1,6% la loro spesa in Italia. E quella giornaliera del 6,8%. Confermiamo la quinta posizione al mondo sia per il numero di arrivi che per le entrate da turismo internazionale. Riguardo alla domanda interna, i primi sei mesi hanno costante con gli ultimi anni una contrazione. Qualcosa è cambiato nel mese di agosto? Per la prima volta dopo molti molti anni, e i dati sono ufficiali di Banca d'Italia, sono conosciuti da questa mattina, ma insomma maggiori ieri sera incominciavano a leggersi, noi abbiamo un vero trend positivo iniziato quest'estate. E questo nonostante appunto le difficoltà delle famiglie, nonostante come dire una non chiara situazione politica, nonostante il fatto, insomma a me piace sempre dire le cose con molta chiarezza, il fatto che anche questa scelta secondo me molto indovinata di avvicinare il turismo alla cultura che è stato fatto in Italia, come sapete questa non è una scelta casuale, ma viene da una richiesta forte che l'Europa fa di quelle che definisce le specificità del turismo, quindi quando il governo si è trovato a rafforzare questa idea di mettere il turismo vicino alla cultura credo che non si potesse fare diversamente in Italia, ma credo che sul turismo appunto nonostante queste difficoltà, insomma stiamo ancora completando la vera integrazione dei due ministeri, ma ci arriveremo veramente in questi giorni, credo che in questo lavoro veramente di esame, di ascolto che sto cercando di fare, insomma ho molto apprezzato le relazioni che mi hanno mostrato una realtà di cui poi proverò anche lì a mettere sul tavolo alcuni temi di discussione, mi sembra appunto che ci sia una costante che emerge in tutte le analisi che ho un po' letto e studiato, cioè che è davvero la domanda che fa l'offerta. Stiamo scoprendo un po' in ritardo quelli che sono alcune consolidamente, alcune scelte e chiare che la rete in questi anni ci ha dimostrato. Insisto sulle potenzialità del mondo web perché sono convinto che il primo grande ritardo che va colmato nel nostro paese è proprio un ritardo digitale. I dati dell'osservatorio e-commerce B2C del Politecnico di Milano ci dicono per esempio che nel 2013 la dinamica e le vendite e-commerce B2C in Italia crescerà alla fine dell'anno del 17%, passando da circa 9 milioni e 6 di euro a oltre 11 milioni e 2. Sempre secondo questo studio fatto dall'osservatorio di Milano, il turismo ha raggiunto un peso pari quasi del 50%, quello veicolato online, del totale di quelle che sono le fasce più giovani, non solo, ma è il 48% del totale delle vendite e-commerce effettuate in Italia. Questi due dati secondo me sono particolarmente importanti e da riflettere, quindi abbiamo come dire un turismo giovane che ricerca per un po' più del 50% il suo pacchetto turismo e la crescita totale dell'e-commerce italiano è caratterizzata dal 50% dedicato al turismo. Sono numeri secondo me importanti su cui riflettere e che ci fanno dire che noi dovremo investire molto in innovazione, sostenendo quei processi di ricerca tecnologica del sistema delle imprese. Ecco perché ho molto accelerato la definizione di quello che sapete era stato messo in piedi dal ministro del turismo che mi ha venuto prima di me, che era appunto questo piano strategico per il turismo. Noi consegneremo a tutte le organizzazioni una prima bozza di questa rivisitazione alla fine di questo mese. Questo per dare un segnale molto forte, ripeto, che il turismo sarà al centro delle nostre attenzioni e delle nostre strategie. Reti d'impresa La rete è uno strumento estremamente flessibile, leggero, mi verrebbe da dire, che ben si adatta a forme di collaborazione fra soggetti che vogliono mantenere il controllo della propria impresa e che non devono necessariamente essere legate a realtà territoriali. Da un lato, mi sembra, emerga con forza la necessità di salvaguardare la specificità dei piccoli in un tessuto imprenditoriale che rende grande l'economia del Paese, ma è altrettanto importante e opportuno dare vita e sostenere l'efficace sinergia delle reti d'impresa, così come le sono state individuate dalle recenti leggi in materia di sviluppo. Credo però che vada trovato un equilibrio fra le specificità delle micro e piccole imprese e i nuovi percorsi e l'offerta turistica. Penso ad esempio quando noi discutiamo a lungo di quanta innovazione e di quanta tecnologia dobbiamo immettere nel turismo, a che ruolo può avere un portale dedicato alla possibilità di riconoscere in un logomarchio italiano la possibilità delle prenotazioni. E su questo stiamo molto ragionando all'interno del Ministero. Come è stato anticipato, il mio Ministero sta predisponendo il bando per finanziare con 8 milioni di euro le reti d'impresa. Destinatari di tali provvedimento saranno proprio quelle piccole e medie imprese già consorziate o che manifesteranno l'impegno a costituirsi con un contratto di rete, ovvero come associazioni temporanee di imprese e consorsi. L'obiettivo che abbiamo con chiarezza definito è quello di accrescere proprio le capacità innovative su un programma comune di rete. Le proposte che verranno ammesse al cofinanziamento dovranno riguardare i principali sistemi di competizione e innovazione del sistema turistico, quale il marketing, la valorizzazione del territorio, l'ottimizzazione dei costi di fornitura e la capacità di penetrazione sui mercati esteri. Le attività oggetto delle nostre agevolazioni saranno quindi le iniziative volte alla riduzione dei costi delle imprese, che fanno parte della rete, attraverso proprio la messa a sistema di quegli strumenti informatici di amministrazione, gestione e prenotazione dei servizi turistici, ma anche la creazione di piattaforme per acquisti collettivi di beni e servizi. Siamo convinti, infatti, che oggi tutto ciò che la rete sta veicolando ha sì una grande proprio importanza nella presentazione di un oggetto, in questo caso appunto di un percorso turistico, ma di una serie di servizi connessi a questo percorso turistico. Mi permetto di sottolineare che quello che avviene in tutti i casi di successo della rete, quindi non ha una specificità nel turismo, e sempre per chiarezza devo dire che qui dobbiamo colmare gap che ormai accumuliamo da anni, no? Pensare soltanto a un fatto che io sottolineo sempre, dovunque vado, ma questo vale nella cultura come nel turismo, ma come dappertutto, che noi siamo l'ultimo paese del mondo che tende a personalizzare i suoi sistemi informatici. Sicuramente il mondo dal 2008 è andato avanti standardizzando il più possibile i sistemi, perché questo consente, come sapete, Apple ha ammesso per la prima volta nella storia del capitalismo, lo dico qui, c'era delle persone che molto più di me sono impegnate nel mondo delle banche, loro non riusciranno a fare un budget annuale, non era mai successo, la 1500, credo che non si era mai vista una cosa del genere, hanno una visibilità a sei mesi. Pensate che cosa vuol dire, che cosa vuol dire correre dietro appunto a una macchina che aggiorna completamente i suoi sistemi. Se noi continuiamo tutti i ministeri italiani ad avere intorno qualcuno che deve interpretare e aggiornare i nostri sistemi proprietari, noi non avremo futuro, ve lo dico con chiarezza. E qui bisogna fare scelte molto chiare, molto forti, molto precise. Quindi prima grande scelta, innovazione. Non inventiamoci nulla, copiamo i sistemi migliori, adeguiamo i nostri sistemi a quelli standard. Seconda scelta, capire, studiare e importare in tutti i nostri sistemi quello che è il marketing. Nel mio ministero si sa molto poco di che cosa sia questa parola, mi sembra che fatichiamo in molte altre realtà. Però guardate che abbiamo casi di eccellenza in Italia, che anche qui basterebbe imitare. Penso a tutto il settore della moda, siamo maestri nel fare il marketing. È un marketing di qualità, è un marketing che usa l'innovazione. Sapete cos'è un CRM? Probabilmente sono questi grandi sistemi in cui si depositano quelli che sono i profili degli utenti. I migliori sistemi del mondo sono posseduti. Quando dico migliori dico per qualità. Noi riusciamo a sapere come è profilato un cliente in tutte le caratteristiche. Appartengono ai grandi imprenditori della moda italiani. Noi riusciamo a mandare una cartolina il giorno del compleanno, riusciamo dopo tre mesi a tornare sull'acquisto. Mi fa ridere che quando mi è capitato di confrontarmi su questa cosa qualcuno era meravigliato che conoscessi queste cose. Ma è una mia curiosità perché credo che sono quelle parti di impresa che dobbiamo premiare in Italia. Noi riusciamo a sapere i figli in età scolare. Perché? Perché attraverso la loro scolarizzazione sappiamo anche quando stanno studiando l'Egitto e quando dobbiamo mandare una cartolina per farli partire in Egitto. Oggi non abbiamo nulla di tutto questo. Le imprese di moda lo sanno. Io ho visto questa banca dati straordinaria che ha Bulgari. Mi piacerebbe un giorno fare una dimostrazione per tutti gli amici imprenditori che lavorano sul turismo. Rimarrete come me senza parole. Loro sanno esattamente i bisogni del cliente. E quando tu chiedi al ragazzo che guida questa task force di Bulgari che abbia 29 anni, gli chiedi come mai sono arrivati a questo? Loro ti rispondono che la rete ha le sue risposte migliori in quello che ti chiede, non in quello che offri. E quindi hanno completamente ribaltato il modello di business. Le caratteristiche dell'intervento finanziario che stiamo prevedendo comportano un importo di cofinanziamento di 200.000 Euro per progetto di rete, ritenendo non ammissibili i progetti che prevedono una spesa totale ammissibile inferiore ai 400.000 Euro. Il finanziamento sarà concesso a fondo perduto nel rispetto del regime degli aiuti dei minimis, secondo la definizione e le prescrizioni degli attuali regolamenti comunitari. È un primo passo questo che abbiamo fatto, a cui ne devono seguire molti, moltissimi. Mi piacerebbe, ne ho parlato ieri sera con il Presidente del Consiglio, arrivare presto a poter dire che abbiamo un pacchietto coerente di provvedimenti, come è stato sulla cultura. E questo perché sono convinto che noi dobbiamo lavorare per sostenere la possibilità delle medie e piccole imprese italiane, di integrarsi in rete, fare sistema, come è stato detto da che mi è preceduto, e favorire un prezioso trasferimento di competenze. Seconda parola magica dove innovazione è fare sistema. Non possiamo continuare a lavorare così, appunto siamo, abbiamo un panorama totalmente frammentato. Dobbiamo tornare a stare seduti insieme, ascoltarci, imprese, enti locali, sistema bancario, lo Stato. Mi piace anche poter cogliere questa occasione per dirvi che finanzieremo e riattiveremo questo progetto Buone Vacanze, perché è uno strumento di turismo sociale importante, soprattutto in questo momento in cui dobbiamo molto aiutare le famiglie, molto creare e lavorare intorno a quello che dal primo momento ho chiamato un turismo consapevole di qualità, che secondo me è il punto di forza del nostro Paese. Abbiamo trasmesso da dieci, da nove giorni, da dieci giorni alla conferenza unificato Stato delle Regioni il decreto che permetterà di assegnare buoni vacanza con un finanziamento di 5 milioni di euro. La conferenza delle Regioni ci ha comunicato che esprimerà il proprio parere entro il 14 ottobre. Dobbiamo molto lavorare con le Regioni, perché dobbiamo trovare le migliori modalità per mettere a punto questo piano strategico e per davvero guardare avanti in un'ottica di grande ottimismo. È stato ricordato in molte sedi di questa grande opportunità che avremo dall'anno del turismo tra Italia e Russia, ma vorrei anche ricordare, concludo queste che sono proprio poche annotazioni su cui forse svilupperemo anche il nostro dialogo, è che noi ci stiamo avvicinando a quella che è veramente una data storica, che è Expo 2015. Credo che qui c'è da fare moltissimo, anche qui. Ne ho parlato con la Presidente della Regione, con Deborah Serracchiani, perché vorrei rafforzare questo legame tra il Ministero e la Regione, perché credo che questa Regione possa molto utilizzare Expo per valorizzare il suo territorio, le sue capacità che sono capacità imprenditoriali, mettere a sistema il sistema imprenditoriale, il sistema turistico, questo straordinario patrimonio storico-artistico che preservate e tutelate così bene. Abbiamo parlato della possibilità di valorizzare il centenario della Grande Guerra come, secondo me, uno dei percorsi più affascinanti che ho visto, che è quello che riguarda le meravigliose fortezze veneziane. Credo, sono sicuro, insomma ci metterò tutto il mio aiuto, che è qualcosa su cui possiamo lavorare molto. Investire nel turismo vuol dire veramente creare grandi opportunità di crescita per il Paese. Vorrei insistere su questo. Noi dobbiamo davvero riuscire a partire da quest'idea su cui stiamo tanto puntando di tutela del paesaggio e anche qui veramente ho di fronte una realtà che ha fatto moltissimo, come sapete il vostro piano paesaggistico sta per essere discusso con la nostra regione e questo consentirà un grande passo avanti. È, come dire, un segno di grandissima attenzione e di voler credere nel valore del paesaggio come capacità di attrazione turistica. Io chiudo veramente queste che erano delle poche annotazioni che però, come dire, spero vi dicano come con la stessa passione con cui ho seguito l'iter di questo pacchetto di misure sulla cultura, farò lo stesso sul turismo, raccolgo tutti i consigli che mi vengono e sono particolarmente grato al fatto che credo che questa sia la mia quarta volta che vengo in questa regione. Segno non solo della vostra grande ospitalità ma del fatto che ritengo che come abbiamo fatto con Pompei per la cultura dove abbiamo detto subito che dovevamo individuare un esempio di buone pratiche di cambiamento di governo e di politiche nuove, mi piacerebbe fare con voi un percorso simile. Grazie. Grazie al Ministro Brai che ha voluto esordire con una serie di messaggi ma soprattutto alcune buone notizie che molti di voi aspettavano in merito non solo al bando di finanziamento per le reti di impresa ma anche questa integrazione con dei mercati emergenti che impone chiaramente un cambio di passo nella innovazione. Spero che il Ministro Brai possa rimanere con noi per ascoltare ancora dei contributi importanti sul tema delle reti di impresa perché uno dei passaggi chiave in questo scenario è sicuramente la capacità di monitorare questo modello di sviluppo che sta conoscendo già degli esempi concreti in alcune parti del territorio italiano. Prima di passare la parola al primo dei tre relatori del panel vorrei ovviamente presentarli. Alla mia destra abbiamo Giuseppe Morandini, Presidente Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia e subito dopo abbiamo Giovanni D'Apozzo, Presidente della Union Camera del Friuli Venezia Giulia, il Ministro Brai che ha parlato all'inizio e il Vice Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e Assessore delle Attività Produttive Sergio Bolzonello. Allora volevo subito interpellare il Presidente della Union Camera del Friuli Venezia Giulia perché abbiamo parlato della necessità di monitorare questi modelli di sviluppo e di comunicare al mondo delle imprese quelli che possono essere gli asset vincenti di questo modello. Siccome il sistema camerale è uno degli attori preposti proprio a questo tipo di attività volevo capire dal Presidente D'Apozzo quali notizie ci porta dal monitoraggio che è stato compiuto recentemente. Grazie innanzitutto porto il saluto di benvenuto a Udine al Ministro Brai, è un piacere riceverlo nella casa delle associazioni di categorie, nella casa dell'economia e ringrazio soprattutto al Vice Presidente Bolzonello per aver voluto scegliere Udine per questo importante incontro su un tema che a dire il vero noi come sistema camerale, in particolare la Camera di Commercio di Udine fin dal 2010 stiamo approfondendo, abbiamo fatto tutta una serie di lavori che vi evidenzierò tra breve. Primo però vorrei fare una considerazione di carattere generale perché l'intervento del Ministro è estremamente importante e stimolante anche per una regione come la nostra dove ha delle potenzialità turistiche estremamente significative, le spiagge, la montagna, il territorio colinare, le città e dove in effetti il turismo è sempre più interconnesso a un concetto di cultura e di ambiente. Noi penso che ce ne rendiamo anche tutti quanti conto che il nostro modello di sviluppo economico che ha fatto la ricchezza del nostro paese, della nostra regione che si è sviluppato dagli anni 70 fino a poco tempo fa è un modello che fortemente è basato sul settore manifatturiero ormai pone dei forti limiti, dei limiti innanzitutto come Sistema Italia perché non abbiamo più quegli asset competitivi come magari possono essere offerti al nostro sistema produttivo in altre aree. Pensiamo che solamente in Carinzia e in Slovenia ci sono 660 aziende manifatturiere di partecipate o totalmente governate da imprenditori italiani di cui il 60% friulane. Perché? Perché ci sono delle condizioni completamente diverse e perché ci sono delle competitività che il nostro sistema purtroppo di paese non offre e quindi una parte del nostro sistema manifatturiero soprattutto quello che non si è innovato e quello che non ha terziarizzato alcune fasi ha citato il Ministro molto interessante è questo dell'iPhone. L'iPhone è l'elemento di questa innovazione manifatturiera dove la produzione viene fatta fuori dagli Stati Uniti ma tutto il valore aggiunto attraverso la conoscenza al marketing e quant'altro viene all'interno degli Stati Uniti ma cambiando modello economico è chiaro che dobbiamo individuare degli asset che chiaramente vadano a sostituire quella parte del PIL che purtroppo, ripeto purtroppo per la seconda volta il sistema manifatturiero non sarà più in grado di dare a questo paese, a questa regione nel prossimo futuro. E il turismo in un concetto molto ampio come cultura, ambiente e tutto quello di bellissimo che anche la nostra regione può offrire è in effetti innanzitutto non è delocalizzabile è immediatamente spendibile perché abbiamo la fortuna di avere delle bellezze che sono lì ce le date a parte del terreno e nessuno ce le toglie dobbiamo solamente però metterle al sistema, farle funzionare e renderle fruibili come prodotto economico con una politica che il Ministro ha detto fare sistema è sempre di più questo termine ce lo dobbiamo mettere nella nostra testa il singolo albergo, il singolo ristorante, il singolo negozio, il singolo turismo pur che bravi siano imprenditorialmente sono dei singoli come insieme di sistema riusciamo in effetti ad esprimere un qualcosa che diventa appetibile sul mercato che sotto il profilo turistico è sempre più competitivo ma è anche sempre più una risorsa che soprattutto quelle economie avanzate stanno cercando di sviluppare. Questo deve farci cambiare un po' la mentalità all'ilà che siano operatori turismi di mare, di montagna, di collina, di città o quant'altro e la contestualizzazione del tema che oggi viene presentato quello delle reti d'impresa non è solo uno strumento tecnico ma è un cambiamento culturale lo strumento tecnico può essere bello, perfetto, perfettibile, finanziabile, non finanziabile ma il concetto che certe politiche, soprattutto quelle turistiche si fanno all'interno di un sistema aggregato e nell'aggregato ci sta il privato, ci sta il pubblico ci sta il volontariato, ci sta l'associazione culturale cioè una complessità di interlocutori è la carta, a mio avviso, vincente che finora abbiamo cercato di perseguire ma forse non siamo riusciti a raggiungere ad un livello talmente di efficienza che possa dare quelle risposte al sistema economico che in questo momento altri comparti, altri settori non stanno dando e qui so benissimo la grande sensibilità e l'attenzione del Vice Presidente Boldonnello su questi temi sui quali però tutti noi dobbiamo lavorare collaborando su un cambiamento prima di cultura e poi di sistema e adesso entro nello specifico noi come Camera di Commercio abbiamo sviluppato nel 2010 un lavoro con l'Università Giudine e abbiamo monitorato, questo non riguarda solamente il turismo ma riguarda tutto il settore, tutti i comparti economici ma il concetto rimane lo stesso abbiamo monitorato chiaramente con un campione molto ampio quasi 600 imprese quella che è la capacità del nostro sistema in questo caso frullano di percepire il valore aggiunto che il sistema della rete di impresa può dare abbiamo visto che innanzitutto le imprese quelle più grandi, quelle più strutturate erano meno interessate quelle più piccole sotto un milione di fatturato ben il 18% ci avevano risposto che avevano avuto delle esperienze positive attraverso magari non contratti di rete ma forme associative, alti diciamo forme di aggregazione anche perché non stiamo a restringerla ad un range molto tecnico e quindi avevano capito soprattutto i più piccoli che dovevano mettersi insieme per sviluppare alcuni aspetti gestionali delle loro attività quali erano questi? beh soprattutto quelle della commercializzazione del marketing della penetrazione sui mercati esteri che poi sono le stesse che ritroviamo come necessità nel settore turistico importantissimo essere più forti e più presenti sulla capacità di attrare quelli che sono in questo caso nel settore turistico i clienti e la gran parte di questo 17% aveva risposto che questa esperienza aveva poi dato un risultato positivo in quanto erano cresciuti in termini di fatturato avevano aumentato i mercati esteri era aumentato il numero di clienti e fornitori quindi un'esperienza estremamente molto positiva e da questa analisi abbiamo fatto alcuni ragionamenti beh innanzitutto è emerso un fatto che è più psicologico che è stato rilevato proprio dagli analisti dell'università che è un dato un po' italiano ma in particolar modo della nostra regione che i nostri imprenditori difficilmente fanno delle società comuni cioè fare un'unica società è un ostacolo soprattutto in natura psicologica quindi ognuno vuole rimanere la propria divina quindi il superare questo aspetto di ispessire il sistema economico attraverso un ispessimento di natura societaria viene a cadere e quindi bisogna entrare in forme di collaborazione di aggregazione associazioni temporanee reti di impresa e quant'altro e su questo noi abbiamo fatto un accordo perché l'aspetto finanziario è importante abbiamo fatto un protocollo di intesa con sistema camerale Friuli a Mediobanca Mediocredito i confidi della nostra della nostra provincia e la FINES perché soprattutto quello che a noi stava a cuore era orientare siccome parlavamo di sistema economico in genere ad accentuare la capacità di penetrazione sui mercati esteri questo vale sia per il settore manifatturiero ma vale anche per il settore agricolo e vale ancora di più per il settore turistico perché andare a prendere clienti all'estero è una forma di incentivazione e di rafforzamento sui mercati esteri e dato questo abbiamo messo anche a disposizione delle risorse come Camera di Udine abbiamo messo nello scorso anno 200 mila euro per finanziare sei reti di presa è stato un grosso successo abbiamo finanziato sei reti di presa ognuna per settore uno è il settore turistico uno è il settore dell'arredo uno è il settore della meccanica uno è il settore dei servizi adesso non mi ricordo gli ultimi due però abbiamo fatto una sperimentazione proprio anche per toccare un po' tutti i comparti che ha portato a dei risultati significativi abbiamo replicato quest'anno gli stessi finanziamenti tutt'oggi le domande non sono pervenute con una certa con un certo interesse però io penso che questa sia una strada e benissimo ha fatto FPUG a porre il tema specificatamente al settore turistico dove il frazionamento che noi registriamo quindi non è un frazionamento che registriamo solo nel comparto turistico ma lo registriamo anche nei comparti manifatturieri anche nei comparti dell'agroalimentare quindi un po' in tutto il nostro sistema voglio ricordare che il 96,5% delle imprese in Friuli-Venezia-Giulia sono sotto i 9 dipendenti quindi questo dato ci identifica anche la debolezza quando dobbiamo operare su certe azioni e la focalizzazione chiaramente a cui noi portiamo una grande attenzione soprattutto quella del marketing della commercializzazione dei mercati esteri che poi sono le stesse tematiche che sono state anche evidenziate nelle relazioni precedenti ecco questa è un po' l'esperienza è quello che noi in questi due anni abbiamo fatto su questo tema voglio ricordare ecco ultimo riferimento che abbiamo creato attraverso i fondi comunitari in collaborazione con la regione Friuli-Venezia-Giulia la più grande rete di imprese attualmente esistente nel settore agroalimentare attraverso i fondi OCM noi abbiamo già da tre anni ben 42 imprese quest'anno sono 42 lo scorso anno è 44 comunque viaggiano le 40 ai 45 che attraverso un cofinanziamento al 50% fondi OCM e al 50% fondi delle imprese perché bisogna anche far capire ai nostri imprenditori che non tutto è regalato ma bisogna anche metterci le risorse ma con delle risorse molto significative stiamo parlando di cifre che superano un milione di euro quindi con un intervento degli imprenditori di una certa dimensione noi già da tre anni stiamo affrontando mercati che vengono scelti dagli imprenditori quindi con questo percorso di grande rete di impresa autogestita ma organizzata in questo caso dalla Camera di Commercio quindi dall'ente pubblico per aggredire nel settore vitivinicolo che poi è il settore correlato all'agriturismo mercati anche molto lontani quindi non solo i mercati del Nord America ma i mercati del farista e quant'altro quindi la formula è una formula che a mio avviso è importante è una formula che deve essere perseguita è una formula dove chiaramente però il primo approccio è quello del cambio della mentalità dell'individualismo che ancora è forse il più grosso limite all'interno di un'economia estremamente piccola e parcellizzata grazie 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 a Giovanni D'Apozzo e completo l'informazione che aveva dato sulle piccole e medie imprese in Friuli con un dato che avevo raccolto proprio ieri dalla associazione internazionale sostenuta dalla Commissione Europea la norma PME che ha stimato intorno all'8% il fatturato complessivo delle piccole e medie imprese in Europa è costituito da imprese turistiche quindi è un dato significativo è un patrimonio immenso il turismo non è più non deve essere più considerato un settore di serie B e chiedo allora a Giuseppe Morandini se effettivamente sta cambiando l'atteggiamento del sistema bancario nei confronti del comparto turistico e poi riprendendo un passaggio nel primo panel mi ero appuntato che c'è un'individuazione un'analisi precisa per quanto riguarda le reti di impresa in particolare bisogna stare molto attenti anche al capo cordata di questa rete di impresa allora le chiedo provocatoriamente ma vengono scelti più i soggetti o i progetti rispetto alle reti di imprese grazie buonasera a tutti ma guardi la prima risposta che mi viene da darle è che veramente queste per noi sono le grandi occasioni che ci servono per capire sempre meglio quali sono le esigenze degli operatori di determinati settori oggi parliamo di turismo noi abbiamo tanto bisogno di ascoltare tantissimo bisogno di imparare ma dobbiamo dimostrare poi la capacità di aver capito bene quello che ci viene detto e gli operatori di questo e di altri settori ci devono sentire al loro fianco e noi dobbiamo avere la capacità di tenere il loro passo perché la sfida che il turismo ha che gli operatori del turismo hanno non è solamente una sfida della loro azienda è una sfida che assieme ha come obiettivo la crescita di questa regione questo lo dico perché quando ci chiedono l'elenco dei settori che hanno maggiore possibilità di crescita noi non dimentichiamo mai di inserire i primi posti proprio al turismo e allora vi vorrei suggerire un piccolo veloce esame numerico della situazione oggi come oggi il turismo pesato male pesa vale il 5% del PIL mondiale stiamo parlando grosso modo di 3.000 miliardi signor ministro abbiamo il 50% dei beni culturali concentrati in Italia abbiamo il maggior numero al mondo dei siti UNESCO tanto per dirne due io credo sia ragionevole che di questi 300 miliardi l'obiettivo di portare in Italia al 10% sia un obiettivo quanto meno ragionevole stiamo parlando di 300 miliardi di possibile fatturato e all'assessore Boldonello chiedo di accettare una sfida della regione all'interno di questi 300 miliardi che l'Italia deve portare sul proprio territorio il fiuruli Venezia Giulia che ruolo vuole giocare l'1% di quel 10% a occhio vale la metà del bilancio regionale attuale sono dimensioni di crescita strategiche noi non dobbiamo mai perdere come riferimento i grandi numeri noi in tutti i settori ma questo in particolare dobbiamo ragionare alto perché ragionare alto ci aiuta a tenere il cervello allenato ci aiuta a non addormentarci sui risultati che abbiamo acquisito ci aiuta a crescere ed accettare le sfide perché succeda questo io mi permetto di dire vi chiedo scusa ma due cose molto semplici di cosa abbiamo bisogno la prima cosa senza altro abbiamo bisogno di un grande cambio di mentalità nel turismo come in altri settori qual è la sfida che noi dobbiamo accogliere è la sfida di saperci confrontare sugli standard di accoglienza internazionali che i clienti ormai chiedono in qualsiasi parte del mondo al quale sono stati abituati con degli standard delle grandi catene di distribuzione con le catene dei grandi sistemi alberghieri questa è la sfida che noi dobbiamo raccogliere ed è una sfida che purtroppo litiga con la dimensione media delle nostre aziende e allora ecco qui l'importanza fra le tante del convegno che di sommariva e l'assessore Bolzonello hanno organizzato il fare le cose insieme ho dei numeri un po' diversi da quello che diceva prima il dottor Filì ci sono 80 c a me risultano 33 filiere costituite da aziende operative nel settore turistico in Italia con 85 aziende turistiche e un richiamo di altre aziende di altri settori di 273 imprese sono numeri importanti sono numeri consolidati non ce n'è una friulana non ce n'è una friulana non c'è una rete di impresa friulana che opri nel turismo e questo è sintomatico è sintomatico purtroppo e lo dico da piccolo imprenditore di quanto noi come regione siamo indietro e come imprenditori siamo indietro nel fare le cose assieme però tutti assieme dobbiamo capire che o facciamo quel salto culturale lì oppure non ce n'è per nessuno perché purtroppo la competizione internazionale per quanto lasci perdere per qualche tempo le nicchie purtroppo ci travolge e questo è il primo grande segnale che noi dobbiamo tenere presente considerando che in friuli Venezia Giulia siamo baciati dal signore perché potremo fare delle reti di impresa io dico sempre che sono la benedizione sul futuro perché sono reti di impresa lunghe e larghe nel senso che possiamo integrare verticalmente tutta l'offerta e allargarla orizzontalmente con tutti i prodotti dell'agroturismo dell'accoglienza dell'agroalimentare siamo baciati dal signore non ci manca niente ci manca la volontà del singolo e qui le do la risposta il singolo è importante perché ci vuole il manico ci vuole il trattore ci vuole la motrice ci vuole chi si fa carico personalmente di portare avanti il progetto questa è la risorsa che noi dobbiamo andare a cercare seconda cosa semplice che ci serve e qui siamo coinvolti tutti chiedo scusa se mi permetto come cittadini noi dobbiamo sviluppare al di là di quello che fanno gli operatori del settore una cultura dell'ospitalità e di un'escoglienza che deve trovare riscontro quotidiano in ogni cittadino io non posso leggere delle indagini dove un italiano su quattro riconosce che i turisti sono accolti malamente un italiano su due vede il turista come un fastidio non possiamo rinunciare a 300 miliardi di fatturati che possono arrivare in Italia perché non abbiamo la capacità di accogliere le persone che vengono a far visita al nostro paese terza e ultima cosa questa chiedo scusa sarà l'età ma è una mia fissa ed è la promozione allora io sono convinto che la promozione della destinazione Italia la deve fare lo Stato capisco le problematiche delle materie concorrenti capisco tutto però le strategie di sviluppo gli indirizzi i mercati devono essere indicati con chiarezza forza e convinzione dallo Stato e a questo proposito faccio una richiesta subito al Ministro ho aperto l'altro giorno la pagina del Consiglio dei Ministri dove vengono illustrate i Ministeri e le deleghe in tutta la videata non c'è la parola turismo capisco che non si possa ammettere perché è materia concorrente io ci sono rimasto male da cittadino quindi signor Ministro se possibile qualche segnale perché veramente il turismo lo cogliamo come priorità del paese lo dobbiamo dare seconda cosa sulla promozione attenzione che il nostro paese va promosso come un'eccellenza solamente se promuoviamo il paese come eccellenza noi riusciamo a promuovere tutto il sistema mi sta molto incuriosendo ma lo sto seguendo da vicino il progetto lanciato da alta gamma in rete con l'Enit in rete col Fai in rete col Turing in rete forse con l'Italia di sicuro con le ferrovie una rete una rete poderosa che promuoverà sette centri sette centri di eccellenza italiane il più vicino a noi è Cortina benissimo che promuovano Cortina come promuovano Positano come possono promuovere Cernobbio e altri paesi la Costa Smeralda e altri centri di prestigio dell'Italia siamo noi che dobbiamo essere capaci di riportare i risultati di quelle promozioni e farle ricadere sui nostri territori perché il nostro territorio può offrire a Traino dell'opportunità che quelle località non possono dare e attenzione promuovere le diversità che abbiamo in Regione promuoviamo sì come dice sempre io prezzo molto l'assessore Bolzonello una Regione all'interno di quella Regione le diversità Sciare a Tervisi o Sciare sullo Zoncolan è diverso Grado è diverso da Lignano Trieste è unica e infatti sta mantenendo tutti i visitatori internazionali grazie grazie a Morandini Vicepresidente Bolzonello lei è stato chiamato in causa più volte allora cerchiamo di inquadrare anche il ruolo della Regione nel progetto di questo modello di sviluppo delle reti d'impresa e poi se vuole rispondere anche brevemente ma giusto un accenno perché volevo poi lasciare due o tre minuti al Ministro Brei per chiudere con delle riflessioni so che il Ministro deve scappare perché non lo aspetta quindi cercherò di essere molto 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 veloci innanzitutto parto dal dal ringraziamento proprio per la generosità del Ministro è ormai la quarta volta che viene in in Regione l'abbiamo incontrato più volte c'è un confronto continuo e poi ci siamo incontrati anche a Roma rispetto al progetto Expo e devo dire che per la prima volta ho trovato un Ministro che si siede a un tavolo e rimane seduto al tavolo per tre ore a discutere con gli assessori regionali devo dire che è una cosa che mi ha stupito glielo ho detto prima molte volte le toccate fughe giustamente per gli impegni per le cose sono molto molto veloci un Ministro che si siede che si mette a discutere dei problemi realmente io fino adesso non l'avevo ancora trovato quindi grazie signor Ministro per questo ma grazie anche al padrone di casa che scusami Giovanni che ci ha che ci ospita oggi la Camera di Commercio abbiamo voluto fare qui questo incontro perché ci sembrava significativo essere qui a Udine un territorio che parte dalla montagna arriva al mare all'interno le colline la parte dell'agroalimentare e ci sembrava giusto farlo qui questo senza nulla togliere dal porto nonese da dove io vengo e dove sono orgoglioso assolutamente di fare alcuni ragionamenti e faremo nel futuro perché troppo spesso è stato trascurato rispetto ad alcuni percorsi di tipo turistico e a Gorizia a Trieste dove le peculiarità sono di altro tipo questo ci sembrava baricentrico rispetto ai ragionamenti proprio per uscire anche da alcune logiche sarebbe stato facile per me organizzarlo a Pordenone mi pareva molto sciocco abbiamo voluto farlo con un taglio tecnico come avete visto non con un taglio politico abbiamo voluto fare un incontro legato alle reti di impresa perché oggi parliamo troppe volte a sproposito rispetto a consorse rispetto a metodi e trascuriamo questo che è un straordinario veicolo per quello che può essere il turismo nei prossimi anni io penso che solo leggendo quattro cose solo ascoltando quello che appena è stato detto si capisca da solo che la formula della rete di impresa supera cioè porta oltre e ci fa fare ragionamenti di tipo completamente diverso ci fa uscire dai personalismi ci fa uscire da quel piccolo cabotaggio che è normale perché con ognuno di noi lo farebbe nell'attuale nell'attuale modalità che abbiamo nei nostri singoli territori la rete di impresa significa una cosa molto diversa si può applicare nel piccolo ma solo può applicare nel grande quindi si può portare veramente a livello di progetto complessivo mentre il singolo consorzio ha dei progetti micro che rimangono all'interno di quel territorio che sono sicuramente validi ma la rete di impresa può arrivare fino a un macro e quindi a un progetto complessivo che riguarda tutto il territorio un territorio che per l'altro è molto piccolo noi signor Ministro giusto per darle due dati abbiamo una una regione che ha il che ha il 17esimo posto come numero di presenze in Italia ma se legata al numero di abitanti è al settimo posto se è al settimo posto il rapporto presenze numero di abitanti e su questo è il dato da cui dobbiamo dobbiamo partire è una è una regione dove per due terzi c'è la presenza legata al balneare e nell'altro terzo ci sta tutto dalla montagna dei cinque poli sciistici che abbiamo alle città alle zone collinari a Trieste che è una cosa a sé dove c'è un segmento che noi non abbiamo ancora esplorato completamente quel turismo legato alla scienza che è un turismo assolutamente importante che dobbiamo anche quello anche su quello dobbiamo fare alcuni ragionamenti importanti e poi abbiamo quattro quattro siti UNESCO Aquileia Romana Cividale le Dolomiti dell'alta provincia pordenonese e i Palù di Livenza che penso in sala pochissimi sappiano neanche cosa siano ma è un sito UNESCO molto importante e assolutamente non valorizzato da questa da questa regione e più uno in corso di valutazione che è Palmanova questa straordinaria città che abbiamo qui in in regione oggi fare ragionamenti sulla sul reti di impresa significa proprio approcciare in modo completamente diverso quello che è il tema il tema del turismo in questa in questa regione io penso che noi dobbiamo con forza puntare su questa su questo strumento come penso che dobbiamo cambiare alcuni ragionamenti rispetto alla promozione il web è sicuramente uno degli strumenti veri solo che oggi come è utilizzato e più è in molti casi uno strumento che diventa autoreferenziale cioè l'utilizzo del web da parte di molti imprenditori e da parte anche di molte istituzioni è assolutamente autoreferenziale prima l'affermazione in cui si dice che me la sono scritta la rete ha le maggiori opportunità in quello che chiede e non in quello che offre è esattamente questa l'essenza del ragionamento sul web noi non siamo in grado se il ministro prima ha parlato di bulgare ha parlato di questa realtà e appunto ha fatto questa affermazione io penso che sia esattamente il nostro futuro oggi parlare di contratti di rete in questa regione significa offrire alcune opportunità tre ne metto tre fiscalità di vantaggio accesso al credito semplificato e meno oneroso maggiore flessibilità sul campo del lavoro e qui apriremo un capitolo che ci porterebbe lontani però lo affidiamo comunque all'agenda e le possibili aree di intervento che abbiamo identificato sono quelle di una piattaforma comune per l'acquisto di beni e servizi creazione di servizi e prodotti turistici integrati dai trasporti le biglietterie noleggi insomma tutta la parte tecnica io adesso sto andando un attimo sul tecnico pianificazione di progetti promozionali come dicevo prima molto estesi quindi macro progetti promozionali e legati a dei micro poi a livello più basso creazione e gestione di marchi collettivi si possono sicuramente fare non preoccupatevi non creiamo un altro marchio ulteriore per il turismo del Friuli Venezia Giulia perché ne abbiamo abbastanza eccetera eccetera e vendita soprattutto la vendita comune di prodotti sul mercato sia sul mercato B2B sia su quello B2C noi vorremmo far sì che il contratto di rete si sviluppi in Friuli Venezia Giulia per raggiungere questi obiettivi uno un aumento della capacità competitiva complessiva e questo mi pare evidente da quello che abbiamo sentito prima da quello che abbiamo visto far crescere l'innovazione e lo sviluppo delle nostre risorse umane che è l'altro passaggio che ancora non sottolineiamo a sufficienza quello della capacità di avere una crescita reale di quelle che sono le nostre risorse umane una maggiore efficienza e una maggiore flessibilità operativa delle nostre imprese dando stabilità ai fatturati perché se non dai stabilità ai fatturati non riesci a fare pianificazione quindi non riesci a fare dei ragionamenti che vadano un attimo più in là un'integrazione di filiera turistica quindi verticale sia una integrazione di filiera orizzontale che significa con altre filiere produttive quindi parliamo sia della parte industriale che della parte agroalimentare e tutti gli altri passaggi legati al mondo produttivo questo è un altro passaggio che diventa assolutamente essenziale possiamo far crescere nuovi turismi perché grazie alla rete di impresa possiamo pensare di fare delle micro operazioni che poi possono man mano se reggono dal punto di vista economico espandersi e possiamo poi affrontare questo la vera sfida nuovi mercati noi sappiamo benissimo che per il nostro turismo rimangono fermi i due mercati storici quello austriaco e quello tedesco che c'è questo terzo mercato che sta crescendo con forza che è quello russo ormai sono i terzi insieme alla cecchia come mercati presenzi in questa regione possiamo però con questo ragionamento affrontare nuovi nuovi mercati in più dovrà ma questa è chiaramente così solo una declinazione generale ci sarà evidentemente un aumento di fatturato e di spesa turistica per cui un ragionamento che per questa nostra regione che vive di un'autopopia autonomia nel senso che va a prendersi le risorse dai gettito dell'iva e quant'altro è evidente che per noi diventa fondamentale anche questo tipo di passaggio come fare velocemente la prima cosa noi non abbiamo una conoscenza adeguata di questo strumento nelle nostre imprese da qui il perché di questo convegno che grazie alla presenza del signor Ministro ci darà un po' di risonanza e ci darà la possibilità quindi di avere anche in questa regione una maggiore attenzione l'avessimo fatto noi avremmo avuto sicuramente una buona attenzione ma non così ma non così forte la seconda è fornire una serie di incentivi regione e camere di commercio su questo stanno ragionando per avviare queste reti di impresa e la terza quella di cercare di far evolvere la legislazione di vantaggio questo è l'altro tema importantissimo soprattutto con il riferimento all'area del credito bancario e del lavoro in questo senso dovremo fare dei ragionamenti sui contratti sul contratto di lavoro soprattutto quello di secondo livello che si collega fra quello aziendale e quello territoriale che ci permette di rendere competitivo il sistema nostro perché questo è l'altro dato che come sempre costo il lavoro una parte costa sempre lì torniamo mi fa segno che devo chiudere perché siamo ministro e vabbè tanto noi avremo altre occasioni di ritrovarci e di ridiscutere ulteriormente grazie 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 al ministro grazie al vicepresidente della regione al ministro brai chiedo semplicemente una conclusione molto sintetica di questo incontro veramente rinnovare il ringraziamento io ho provato come dire a prendere degli appunti forse può essere utile ordinarli il modello il presidente Morandini ci pone come dire quasi una sorta di scelta fate attenzione tra piccolo e grande le grandi catene alberghiere io sono molto chiaro noi siamo fortissimi lì dove valorizziamo le nicchie non inseguiamo sogni lì dove abbiamo provato a essere competitivi con quello che si chiama il mass marketing abbiamo sempre perso tutte le politiche industriali degli ultimi anni in tutti i settori sono sbagliate vengo da un mondo come l'editoria dove ci stiamo frantumando pensando di competere con i grandi competitor noi vinciamo dove valorizziamo le nicchie e nicchia vuol dire qualità neo artigianato siamo imbattibili non abbiamo fatto nulla per valorizzare questa scelta secondo punto gli strumenti beh guardate che il mondo web davvero rivoluziona tutte quelle che sono le nostre competenze vi faccio una domanda che gli americani fanno che è molto divertente quali sono gli stati più abitati che rispondiamo Cina India no Facebook Scusate ma loro sono maestri quando rispondono così voi su Facebook potete senza inventare nulla veicolare qualunque attività perché qualunque comunità si aggrega su Facebook vi dà una media giornaliera di oltre centomila risposte ma non bisogna fare siti vetrina bisogna saper dialogare con la comunità sapere che cosa si attendono da noi e qui il nostro ritardo è incolmabile risposta scusate se sono anche qui molto netto promuoviamo una nuova generazione siamo pieni di giovani bravissimi che scappano da questo paese se noi li mettessimo nelle nostre aziende credo che vinceremmo terzo punto gli attori sì certo il singolo può fare molto moltissimo ma scusate anche qui se 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 sono un po' come dire faccio della provocazione ma io ho solo dimostrazione in questo paese che i singoli ci stanno io stamattina alle 8 ho visto il presidente di union camera d'ardanello che è un signore che insieme alla sua associazione ha messo in piedi una cosa che si chiama il marchio di qualità italiano e stamattina mi è venuto a dire che hanno un'anagrafe di 2000 soggetti si potrà fare meglio sicuramente ma forse se smettessimo di trovare che ognuno che fa qualcosa sbaglia e provassimo invece a mettere a sistema noi magari ci diamo l'obiettivo che come la Francia ha la sua guida Michelin che tutti comprano faccio presente che ne vendono 8 milioni di copie l'anno che forse varrebbe la pena tenere una casa editrice solo per fare questo e che tutti coloro che vanno in Francia e ci hanno sul tavolo la guida Michelin sanno che quel ristorante quell'albergo è tenuto a confrontarsi con quella guida parentesi la guida Michelin utilizza un banale motore di ricerca per le prenotazioni che è quello di Amazon che è famoso nel mondo perché si dice che ti fa trovare tutto standardizzato in un click aprite un qualunque sito italiano che fa turismo e ditemi dopo quanti click arrivate a trovare ciò che cercate ho capito ma questi ritardi si pagano però qui scusate se lo dico la colpa è nostra perché io credo che l'imprenditore in questo stato è quello che ci ha mantenuto in piedi nonostante noi perché oggi mi è stato chiesto ma come si fa a dire che noi diventiamo il più grande paese che investe nel turismo il 5 del 10 dell'1 e stiamo perdendo il vettore all'Italia è una follia è un paese di matti che fa questo io per andare in Giordania devo volare Air Jordan e non c'ho all'Italia e il volo e il volo è stracolmo all'andata e al ritorno e ho finanziato i privati per mantenerlo e scopro oggi che stiamo rifallendo e devo svenderla probabilmente ma che paese è questo? è un paese che deve fare sistema e scusate anche se qui come dire spezzo una lancia basta con questa cosa che tutto ciò che è pubblico non deve funzionare perché Trenitalia funziona? perché come dire abbiamo dimostrato che se mettiamo persone che si dedicano a quella società e non pensano agli interessi particolari anche il pubblico può funzionare bene e questo lo dico per tutto per le scuole ieri mi si dicevano che dice il ministro del fatto che dicono che le scuole italiane non funzionano ma scusate ma se ogni giorno sui giornali andiamo dicendo che i migliori ricercatori del mondo sono italiani che scappano ma dove li formiamo questi ricercatori se non nelle scuole italiane e questo lo dico anche per un senso come dire di fiducia e di orgoglio che dobbiamo ritrovare questo è un grandissimo paese il più bello del mondo se ognuno di noi lo curasse davvero di più e provassimo a farlo insieme proprio con l'obiettivo di questa grande sfida se da parte nostra liberassimo le energie degli imprenditori che secondo me non ne possono più se io provo a leggere le norme che ogni volta scriviamo mi spavento soltanto per cercare di capirle mi immagino prima che deve fare l'imprenditore per applicarle insomma secondo me questo è un paese che ha tutte le potenzialità per vincere questa sfida e lo dico davvero ho convinto credetemi proprio lo sto toccando guardando dappertutto lo ascolto io vado in Giordania e trovo il più grande mosaico del mondo lo stiamo restaurando noi noi italiani noi insegniamo che cos'è quest'arte del restauro e poi incontro questi ragazzi poveri e tutti ci chiedono appunto come fare avvenire in Italia e poi discutiamo su il periodo che ci vuole a dare i visti ma noi ai cinesi che vengono gli chiediamo sei mesi di conto corrente e poi rimproveriamo un imprenditore per la qualità dell'albergo ma signori bisogna essere seri in questo e allora diamo tutti gli strumenti per fare impresa liberiamo queste energie lavoriamo insieme e credo che vinceremo questa sfida scusate grazie al ministro ringrazio tutti i relatori e gli ascoltatori